lunedì 20 agosto isole tremiti dedicheremo l'intera giornata alla scoperta di questo paradiso naturalistico visiteremo l'isola di san nicola dominata dalla fortezza abbazia di santa maria mare e l'isola di san domino poi in barca faremo l'escursione delle tre isole alla scoperta di insenature e delle grotte marine grazie a tutti 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 questa qui è la grotta delle diole guardate i colori dell'acqua grazie a tutti 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 grazie a tutti